A causa dell'aumento dell'immigrazione irregolare, la Repubblica Ceca ha ripreso i controlli al confine con la Slovacchia. Gli agenti della polizia hanno iniziato a fermare le auto e controllare i treni dalla notte fra martedì e mercoledì e continueranno almeno fino al 13 ottobre. I controlli sono casuali, ma si concentrano principalmente su veicoli preselezionati in base alla capacità potenziale di trasportare migranti. 19 migranti, 16 мужi, 3 dzieci. Sono in dodàvce con polskei SPZ. Bohužel, neanche l'Hlidka prigiegla al vozidlo, l'Hlidka, la polizia, che era qui e aveva avvicinato i servizi, quindi si tratta di rispondere a rispondere a rispondere a rispondere a rispondere alle attraversazioni irregolari dei confini dei paesi dell'Europa sud-orientale con lo stesso piano della Polonia. Anche l'Austria ha annunciato l'avvio di controlli temporanei al confine con la Slovacchia a partire dalla mezzanotte di mercoledì.